Forma coscienza. Che cos'è il momento storico? Commento. Il momento storico è il prodotto della forma coscienza dell'umanità incarnata che si materializza in avvenimenti che noi chiamiamo quando li viviamo sociali e quando li abbiamo vissuti storici. La forma coscienza riflette il sentire medio dell'umanità. Nella realtà il momento storico e quindi il tempo non esiste. Gli anni venti, gli anni quaranta, gli anni novanta eccetera non esistono come noi li concepiamo. Il primo novecento, gli inizi del secolo, il medioevo, l'impero romano, la polis greca, l'impero assiro babilonese. Nella realtà non esistono come venti cronologici ma come venti coscienziali espressi dalle forme coscienza delle collettività che li hanno vissuti. Più precisamente dall'insieme delle coscienze che hanno sostanziato quelle collettività. Grazie.